Tra poco su Rai 1, subito dopo il nostro telegiornale, nuovo appuntamento con Domenica In. Allora, vediamo Mara Venier con un ospite molto amato dal pubblico. Eccomi qua, guarda che sorpresa, Sonia Zucchero! Buongiorno! Che presenterà oggi il suo ultimo album, mi ha appena fatto questo regalo. Eccolo qua, benvenuto Zucchero. Grazie, grazie, Discover. Discover, Discover. Discover, dice che è appena arrivato con furgone. Sì, siamo appena arrivati col furgone, abbiamo scaricato la bionda e ci vediamo tra poco. A tra poco con Zucchero, Monica Bellucci, alcuni dei protagonisti di Bellando con le stelle, Arisa, la vincitrice. A tra poco, grazie TG1, ciao Sonia.